E' stato lui a coronare la splendida rimonta delle Catanzaro a Trapani nel secondo tempo. La sua zampata è valsa il pareggio, il 3-3. Daniel Onescu, dopo aver messo la palla dentro, è stato letteralmente sommerso dagli abbracci dei suoi compagni di squadra. Quella rete e quel pareggio può rappresentare la svolta del campionato, finora molto sofferto. Può infondere talmente tanto morale e consapevolezza che può risultare trainante per altri risultati importanti a catena. Sì, speriamo sia il secondo tempo della svolta, perché abbiamo fatto un grande secondo tempo recuperando una partita quasi impossibile. Speriamo di dare continuità, soprattutto con i risultati. Sicuramente eravamo delusi e allo stesso tempo arrabbiati a fine apriotempo, perché la partita l'avevamo iniziata bene. Infatti ho avuto un'occasione subito, ho sbagliato, magari se avessi fatto gol si parlava di un'altra partita. Poi loro sono stati bravi perché hanno fatto dei gol belli, diciamo, tiri da fuori, così. E' stato più, abbiamo provato a tirar fuori l'orgoglio e provare a fare un gol e vedere se riusciamo a riaprirlo. Sabato arriverà allo stadio Ceravolo la Fidelisandria, di cui Onesco è fresco ex, ultima in classifica. Non fidiamoci dell'ultimo posto, loro sono una buona squadra, arcigna, dice Onesco. Dovremo stare attenti ad attaccare con intelligenza ed equilibrio. E' una partita che sicuramente loro ci metteranno tutto quello che hanno perché se no non escono da questo periodo. Quindi magari dobbiamo mettere la stessa grinta che metteranno loro e solo così potremo riuscire a vincere. Sicuramente, ho passato due anni bellissimi ad Andria, però sabato sarà una partita come le altre perché alla fine quando scendo in campo amici, non amici, conoscenti, non conto. Poi tornerà come prima. Loro sono in un momento di difficoltà e speriamo che ne escano però non dalla prossima partita.